Quadra, il cuore di Franciacorta. Quadra è un progetto vinicolo affermatosi circa vent'anni orsono per l'originalità del proprio stile interpretativo del Franciacorta. Amato sia in ambito locale che nazionale per questa sua filosofia de diversamente Franciacorta. L'azienda è infatti collocata in questo territorio avente le sue regole di produzione e di suoi prodotti, ma ha volutamente deciso di dare alla bollicina una propria interpretazione. Questa diversità deriva da una sedimentazione di esperienze che hanno portato Quadra ad allontanarsi dalla norma, trovando nel rispetto della tradizione strade di gusto alternative. I suoi Q-Saten, Q-Rose Brut, Q-Black Brut e Green Vegan Brut sono simboli di grazia, eleganza e raffinatezza, apprezzati per la sua autenticità e simbolo di modernità.